Da qui inizia la mia azienda in cui questa parte è interamente dedicata alla coltivazione di piante da orto, aromatiche, officinali, piante da frutto coltivate in maniera naturale. Alle mie spalle vedete le serre in cui seminiamo e vediamo nascere e crescere le nostre piantine che saranno destinate poi alla vendita e per le poche lette la messa a dimora su questo terreno. Da questa parte invece troviamo il frutteto biodiverso. Perché l'abbiamo chiamato così? Sia perché la diversità fa tendenza oltre ad essere molto utile per l'ambiente. Infatti non abbiamo piantato più di due o tre tipi di frutti della stessa specie e ci abbiamo integrato delle gilde di aromatiche officinali come i rosmarini, i timi, le lavande e così via. L'azienda che stiamo creando non vuole essere una semplice azienda ma vuole essere un posto in cui le persone che vengono a comprare le piante e i suoi prodotti si godano la pace e la tranquillità che la natura ci trasmette ogni giorno senza chiedere nulla in cambio. Spero che questo video vi sia piaciuto, condividetelo, lasciate un mi piace, commentate e al prossimo video. Ciao ciao!